Un'iniziativa molto importante, interessante, il nome stesso lo dice, noi poi abbiamo sempre amato e portato avanti tutto ciò che viene dal basso, per cui è sicuramente la cosa fondamentale. Dal basso tra l'altro era anche un tema che personaggi come Assalti Frontali con la cordata costituiva uno slogan di questo movimento che per anni è stato molto molto importante e che se l'hip hop oggi adesso è trionfante è dovuto anche ai suoi progenitori con appunto gruppi di questo tipo che con dal basso avevano una forma programmatica in mente di lavoro e di modalità di intervento all'interno del mondo culturale. Oggi bisogna puntare tutto sulla specializzazione, io non cercherei se fossi giovane oggi di entrare in un giornale perché la trafila è lunga, difficile e potrebbe portare a un nulla di fatto. Cercherei invece di creare qualcosa online, qualcosa di unico, qualcosa legato alla propria passione, cercherei di diventare il numero uno in Italia in quel campo e sono convinto che a quel punto saranno invece eventuali investitori a andare a cercare il sito, il blog, la app che di quello si occupa perché sarà un lavoro di eccellenza che anche un grande giornale per esempio che non può avere quella specificità potrebbe avere interesse ad aggregare per esempio o perché, lo vediamo appunto nei blog di moda, la moda può essere interessata ad avere alle proprie sfilate, a invitare giornalisti, blogger che dal proprio blog fanno più ascolti di un portale generalista fatto dall'alto e non dal basso. Grazie a tutti!